Buona giornata a tutti, qui è sempre Claudio Simeoni che manda in onda la trasmissione Magia Stagoneria Paganesimo, la seconda parte dove leggiamo i vari testi della Stagoneria del Paganesimo scritti per il momento dal sottoscritto e continuiamo la lettura del Gesù di Nazareth L'infamia umana, leggiamo solo la quarta parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana perché la quarta parte tratta della relazione fra Gesù di Nazareth e i farisei e questi insegnamenti fatti da questo Gesù di Nazareth sui Vangeli ufficiali, ricordiamo che un Gesù di Nazareth non è mai esistito, esistono solo delle descrizioni, delle descrizioni che attraversano la storia che vengono usate dai vari scrittori per i loro progetti politici, i loro progetti magici, i loro progetti religiosi e il Gesù di Nazareth e i Vangeli ufficiali è quello che praticamente fonda la pulsione di morte, fonda l'ordine di sottomettere le persone più deboli, di sottometterli al più forte. Oggi tratteremo da Luca il fariseo e la peccatrice. Ricordo che i passi che vengono letti in questa trasmissione, i passi di Gesù sono letterali e naturalmente la letteralità può variare da traduzione a traduzione, da testo a testo, però sono letterali per cui ognuno può andare a verificarseli. Insieme al fariseo e la peccatrice di Luca mettiamo la bolla Super Ilius Specula, forse pochissimi sanno cos'è la bolla Super Ilius Specula. È una bolla papale con la quale Giovanni XXII, ricordiamo che Giovanni XXIII ha preso il nome proprio come per seguire le orme di Giovanni XXII, praticamente dà il via alla caccia alle streghe, dà via alla mattanza delle streghe e vedremo cosa dice in questa bolla Giovanni XXII, è una bolla del 1326 e metteremo insieme questi due testi e vedremo come la Chiesa Cattolica applica l'insegnamento del fariseo e la peccatrice e qual è il vero significato di questo episodio raccontato da Luca a modo di Luca. Ricordiamo che i vari episodi vengono raccontati o aggiunti a seconda delle necessità dei singoli evangelisti di far presa sul loro entourage, dove loro intendono diffondere le loro idee. Dunque da Luca il fariseo e la peccatrice. Un fariseo lo invitò a mangiare da lui, egli entrò nella sua casa e si pose a tavola. Ora ecco una donna che nella città era pubblica peccatrice. Saputo che egli era a tavola nella casa del fariseo, vi andò portando un vaso di alabastro pieno di profumo. Si pose ai piedi di Gesù, bagnandogli con le sue lacrime e asciugandoli con i capelli del suo capo. Li baciava e gli ungeva di profumo. Il fariseo che lo aveva invitato, vedendo questo, pensava fra sé. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è questa donna che lo tocca. Di che razza? Una peccatrice. Ma Gesù, dirigendogli la parola, disse, Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli, maestro, di pure, rispose. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi con che pagare, condonò il debito ad ambe due. Quale di due lo amerà di più? Simone rispose, quello io penso a cui ha condonato di più. Gesù rispose, hai giudicato bene. Poi rivolto verso la donna, disse a Simone, vedi tu questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato acqua per i piedi. Questa invece ha bagnato i miei piedi con lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato il bacio e lei, da quando sono entrato, non ha cessato di baciare i miei piedi. Tu non hai unto di olio il mio capo e lei ha unto i miei piedi di profumo. Perciò io dico, i suoi numerosi peccati sono stati perdonati, perché essa ha amato molto. Colui invece al quale poco è perdonato, poco ama, disse poi a lei, sono perdonati i tuoi peccati. Allora i convitati incominciarono a dire fra loro, chi è costui che rimette anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Questo è l'episodio del fariseo e la peccatrice. Ricordo che questo episodio viene giocato in varie modi dalla Chiesa Cattolica a livello di propaganda, per far vedere questo Gesù buono nei confronti di questa peccatrice. Vediamo invece qual è il commento a questo episodio. Al centro del mondo c'è Gesù, non per quello che lui fa o per quello che dice, ma come pretesa impositiva a priori. Gesù afferma di essere figlio di Dio e come tale pretende di essere considerato e trattato. Il rispetto a Gesù è ignoto. Ogni gentilezza che riceve non è atto di scelta di un essere, ma è atto dovuto in quanto egli è il padrone. Anzi, l'atto ricevuto è sempre manchievole, in quanto è sempre troppo dignitoso e chi lo compie nei suoi confronti non si umilia a sufficienza e non lo ringrazia per avergli consentito di compiere un atto di generosità nei suoi confronti. Tutti i termini delle relazioni umane sono sovvertiti e la Chiesa Cristiana e quella Cattolica in particolare, che deve essere ringraziata in quanto permette ai suoi fedeli di prostrarsi e di supplicarla, in quanto essa non considera i suoi fedeli degli esseri umani dignitosi, ma solo delle pecore che lei, buon pastore, sta conducendo al macello. In questo racconto ecco Luca a marcare questo aspetto. A Luca non interessa la generosità del fariseo. Luca afferma che Gesù è invitato a pranzo, perciò entra in casa e si siede a tavola. Nessun commento, nessuna motivazione, nessun perché. Un fariseo, ligio alla tradizione, lo ha invitato. Perché e per come non è dato sapere. Per Luca è un onore per il fariseo invitare Gesù. Gesù rende onore al fariseo andando a mangiare a casa sua, a casa del nemico. Non è il fariseo generoso nell'invitare Gesù, ma è Gesù generoso nell'andare a pranzo dal fariseo. Folle. Luca nel racconto introduce un personaggio in contraposizione al fariseo, una donna pubblica peccatrice. Il concetto di pubblica peccatrice è un concetto che va lasciato soltanto alla definizione feroci dei cristiani. Ricordiamo che chiunque tenti di lottare per la vita o per migliori condizioni di vita, per i cristiani sono pubblici peccatori. Nel corso della vita chiunque combatte con le proprie mani. Nessuno condanna un uomo perché si guadagna da vivere coi suoi muscoli. Nessuno dice un operaio che cede otto, oggi, ore della sua giornata di sé stesso al padrone puttaniere. Però una donna che usa le sue armi per vivere al meglio nel sistema sociale in cui è nata, viene giudicata dai cristiani come pubblica peccatrice e additata al disprezzo pubblico. Questo perché per i cristiani l'essere umano femminile non è persona, ma bestiame che deve essere elevato ed addestrato per comportarsi come il padrone vuole che si comporti, pena, grandi e castighi. Luca usa questo personaggio che considera l'essere più abietto che gli possa pensare come contrapposizione al fariseo che rappresenta l'essere umano più pio e ossequioso della legge divina nella società giudaica. Questa peccatrice si mette in ginocchio davanti a Gesù, si umilia al punto di lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime e assugarli, con i capelli, profumandogli i piedi. Quest'immagine è quanto la Chiesa cristiana impone ai suoi fedeli, prostrarsi, umiliarsi, coprirsi il capo di cenere, non essere persone, ma supplicanti, sopraffatti dal dolore dell'esistenza. Essere nelle stesse condizioni della peccatrice, costei per il suo stato, per le sue scelte e per la propria coscienza, è imprigionata, non è in grado di chiedere nulla, di rivendicare nulla, di offrire nulla se non la propria auto-umiliazione. Il fariseo è un essere umano pio, segue la sua legge, all'orgoglio di seguire la propria regola di vita, a qualche cosa da opporre allo sfottò di Gesù. Il fariseo segue il proprio sentire, giusto o sbagliato che sia, condivisibile o meno, e da quel sentire trae la forza per affrontare la propria esistenza. Da quel sentire si procura le armi e gli scudi con i quali affrontare le sfide della vita. Egli non è tenuto ad umiliarsi, egli ha seguito fedelmente le proprie tradizioni, ha fatto quanto ritiene giusto e può guardare Gesù a testa alta, egli ha retto in se stesso. La donna è stata costretta a condizioni e ad azioni che lei non condivideva. Per non essere riuscita a costruire condizioni diverse o per essere stata schiacciata si sente colpevole. Non ha nemmeno la forza di accusare chi l'ha indotta a comportarsi in maniera diversa dal proprio pensiero e dalla propria coscienza. Se lei avesse condiviso il proprio stato di pubblica peccatrice, non sarebbe così debole psicologicamente. Non si prostrerebbe, ma userebbe il proprio stato come atto di forza, riuscendo a prendere dal proprio stato e dal proprio modo di essere gli scudi e le armi con le quali difendersi. Allora non la troveremo in ginocchio davanti a Gesù e Luca non avrebbe occasione di propinarci la sua morale di bieco assassino. Bieco assassino, questo è il punto. Il fariseo ha la forza dentro di sé, la donna no. L'indicazione che Luca dà alla chiesa cristiana è quello di ridurre ogni essere umano nelle stesse condizioni psicologiche di quella donna, colpevolizzarla psicologicamente ed educazionalmente, costruendo le condizioni attraverso le quali questa si sente colpevolizzata psicologicamente e non si accorga delle condizioni educazionali che l'hanno costretta a diventare ciò che è diventata. Costringerla a credere che quanto fa il male che esce da sé e non le condizioni che la costringono a scegliere, quanto sceglie in quanto non ha scelta per effettuare una scelta diversa. Questo fa di Luca un miserabile assassino. Prendendo in esame una situazione assurda, considerando cioè che sia la donna che il fariseo abbiano avuto nel corso dell'esistenza la stessa possibilità di scelte e le identiche condizioni all'interno delle quali potessero scegliere, a parità di condizioni, ammesso come esempio ma non concesso, il fariseo ha scelto una via secondo la propria tradizione, mentre la donna ha scelto una via fuori della tradizione. Il fariseo si è tenuto alla legge divina, con tutte le eccezioni che vogliamo accreditargli, mentre la donna no. In questo caso avrebbe ragione il fariseo a protestare un diverso trattamento da parte di Gesù in qualità di figlio del Dio creatore. Gesù mostra apprezzamento per chi non ha seguito la legge divina, mentre mostra disprezzo per chi l'ha seguita. Infatti la donna non mostra pentimento per la sua vita, non promette di cambiare vita seguendo una morale diversa, la donna si umilia soltanto. All'interno di queste condizioni ha ragione il fariseo a disprezzare quanto Gesù mostra di apprezzare. Il punto è che a Gesù la parola divina interessa soltanto per umiliare chi non è in grado di difendersi, per sottomettere e soggiogare gli esseri umani, non per costruire libertà, o un sentiero che porti verso la conoscenza e la consapevolezza degli esseri umani stessi. Il racconto che Gesù usa come metafora è fuori luogo. Egli in sostanza afferma che chi ha un debito maggiore è più grato per la remissione di chi ha un debito minore. Egli usa una metafora materiale per esemplificare una situazione morale. Sembra che gli voglia monetizzare il comportamento morale. La metafora è fuori luogo in quanto Gesù parte dal presupposto che entrambi abbiano un debito con Dio, dunque con Lui. Il fariseo ha un debito di gratitudine con Lui in quanto lo ha invitato a pranzo e la donna ha un debito con Lui in quanto è una pubblica peccatrice. Ma la remissione del debito dell'uno e dell'altro non possono essere considerate la stessa stregua in quanto il debito, se di debito si può parlare, è chiaramente di natura diversa. Ma Gesù non interessa questo. Egli è rabbioso in quanto non è in grado di umiliare il fariseo che, proprio per il fatto di seguire la propria tradizione, non può essere accusato di peccato. Mentre la donna si ritiene nel peccato e cerca una via d'uscita dalla propria situazione. Il fariseo offre qualche cosa, mentre la donna chiede. In questo caso è Gesù in debito col fariseo, non il fariseo con Gesù. La metafora è fuori luogo in quanto Gesù avrebbe dovuto parlare di due individui, uno al quale viene rimesso il debito ed uno al quale viene sottratto il credito. Allora la risposta di Pietro sarebbe stata molto diversa, a parte che c'è forse un errore, perché probabilmente è il fariseo che si chiamava Simone. Comunque non ha importanza. Il debitore sarebbe stato grato, ma il creditore sarebbe stato rabbioso nei confronti di chi gli sottraeva il credito, accumulato. Il fariseo, proprio per seguire fedelmente la propria tradizione, aveva accumulato un credito con il suo Dio, in quanto egli aveva rispettato i patti, mentre il suo Dio doveva ancora concedergli quanto era stato stipulato nel patto. Tutto questo a Gesù non interessa, in quanto egli è il Dio padrone, figlio del Dio padrone, e tutto era dovuto in quanto egli chiedeva che fosse dovuto. Rinfaccia il fariseo di non averlo onorato, però era seduto a sua tavola, e il fariseo gli aveva offerto il suo cibo, in piatti e bicchieri lavati e puliti. Lo accusa di non averlo baciato, dimenticando che Gesù disprezza le tradizioni dei farisei. Lo accusa di non averlo unto, e perché avrebbe dovuto, se gli disprezzava le tradizioni? In altre parole, Gesù offende il proprio ospite, umiliandolo davanti a una pubblica peccatrice. E non lo offende poco, davanti a chi percorre il proprio sentiero, nel rispetto della propria tradizione, afferma che Costei non ha più peccati per il solo fatto di essersi umiliata e prostrata, e non per il fatto di essersi ravveduta. Questo è l'insegnamento di Luca alle chiese cristiane, imporre l'umiliazione, perché? Per ottenere cosa? La salvezza da cosa? Dal terrore cui la chiesa cristiana sottoporrà tutti gli esseri umani, che avranno qualche cosa da opporre alla chiesa cristiana. Il fariseo non era salvo, il fariseo sarebbe stato torturato e poi bruciato dai cristiani, non appena questi ne avrebbero avuto i mezzi. I cristiani li avrebbero tolto i figli e limitato ogni possibilità di movimento, questo perché il fariseo camminava lungo il proprio sentiero, e questi cristiani non sono in grado di sopportarlo in quanto nemici della vita. Nel 583, Re Caredo, re dei Visigoti, si convertì dall'arianesimo al cattolicesimo, questo era in Spagna, Re Caredo, e come omaggio alla nuova religione perseguitò gli ebrei, applicò la decisione del terzo concilio di Toledo, secondo il quale i figli dei matrimoni misti dovevano essere battezzati. Egli ha detto inizio ad una persecuzione che giunse al culmine con l'inquisizione spagnola. Il successore ordinò che gli ebrei non convertiti lasciassero il paese, infatti gli ha rubato tutti gli averi. I migliaia emigrarono in Nordafrica e in Gallia, prima dell'occupazione musulmana del 711. I discendenti degli ebrei dovevano essere consegnati allo Stato per venire educati. Lo Stato li distribuiva presso famiglie cattolico-servanti e poi li costringeva a sposarsi con cattolici di provata fede. Non c'è da stupirsi se costoro accolsero i musulmani come dei liberatori. I farisei camminavano orgogliosi lungo il proprio cammino, che essi consideravano un cammino di giustizia. La donna, pubblica peccatrice, si prostrava e umiliava in quanto si riteneva colpevole di quello che faceva. Secondo gli insegnamenti di Luca, i cristiani tentarono di trasformare gli ebrei nelle stesse condizioni della donna che Luca considerava pubblica peccatrice, affinché si prostrassero e si umiliassero davanti al terrore dei cristiani. In nessun altro modo i cristiani potevano diffondere il messaggio di morte del loro fondatore. Scusate. Benissimo. A questo punto, l'insegnamento che fa Luca attraverso il fariseo e la peccatrice, vediamo come viene ricepito da Giovanni XXII e ricordo che Giovanni XXIII, che qualcuno parla di papà buono, di umanità, prende il nome proprio da questo papa e questo papa fa macellare dal via praticamente alla caccia alle streghe e dal via alla caccia alle streghe proprio con questa bolla. Adesso non so se sia questa esattamente la prima bolla o se sia una delle varie bolle, ma credo che sia la prima bolla della caccia alle streghe. La bolla super ilius specula di Giovanni XXII. Dunque la lettura della bolla è letterale, è una traduzione del latino, per cui può darsi che nella traduzione ci sia qualche errore, però la lettura è letterale. Giovanni Vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria. Posti all'altezza di colui, per quanto senza merito e favorendoci da sua clemenza che da principio formò il primo essere del genere umano, messo a capo delle cose terrene e adornato delle virtù divine, conforme e consimile all'immagine sua, che lo richiamò quando era esule dandogli la legge, lo liberò quando era prigioniero, lo ritrovò quando era perduto e lo riscattò quando era stato venduto col merito di sua passione, perché di là volgessimo lo sguardo ai figli degli uomini che comprendono e ricercano Dio attraverso l'esercizio della religione cristiana, con dolore percepiamo e lo pensiamo pure con il nostro intimo turbamento quanti sono cristiani solo di nome. Essi, abbandonato il primo lume della verità, sono ricoperti da così grande caligine di errore che stringono un'alleanza con la morte e stipano un patto con l'inferno. Fanno infatti i sacrifici ai diavoli, li onorano, costruiscono e fanno costruire immagini, anelli, specchi, ampolle o qualunque altra cosa per legare vi stesso magicamente i diavoli. Ad essi chiedono responsi, li ricevono e per soddisfare i loro malvagi desideri chiedono il loro aiuto e per questo scopo a sei turpe chiedono una turpe servitù. Quale dolore? Un simile morbo pestinenziale che ora si diffonde per il mondo più ampiamente del solito contagia col passare del tempo più gravemente il greggio di Cristo. Pertanto, per un dovere proveniente dall'ufficio pastorale che abbiamo assunto, dovendo ricondurre le pecore che vagavano sviate per riportarle all'oville di Cristo e separare dal greggio del Signore quelle malate perché non infettano le altre, con questa costituzione valida in perpetuo, valida in perpetuo, ricordate, valida in perpetuo, avendo consultato i nostri fratelli, ammoniamo tutti i singoli rinati dal fonte battesimale in virtù della santa obbedienza e sotto la minaccia discomunica prescrivendo i medesimi che nessuno di loro osi insegnare o apprendere cosa alcuna delle predette empie dottrine o, fatto ancora più esecrabile, servirsi in qualunque modo di esse in qualche caso. E poiché sta bene che costoro, che con le loro azioni perverse disprezzano l'Altissimo, siano colpiti con le debite pene per le loro colpe. Noi scomunichiamo immediatamente tutti e singoli che abbiano osato fare alcunché delle predette cose di contro ai nostri molti salutari moniti ed ordini e decidiamo che essi incorrono in tale scomunica ipsofatto. Stabiliamo con fermezza che, oltre alle pene surriferite contro quei tali che ammoniti delle predette cose o in qualche parte di esse non si siano corretti entro otto giorni da contarsi a partire dall'ammunizione predetta, si procederà attraverso i competenti uffici ad affliggere quelle pene, tutte e singole, oltre alla confisca dei beni che per legge meritano gli eretici. In vero, essendo opportuno che ogni via ed occasione siano precluse a misfatti così esecrabili e avendo consultato i detti i nostri fratelli, prescriviamo ed ordiniamo a tutti che nessuno di loro ardisca avere, tenere o studiare volumetti o scritti di qualunque genere contenente alcunché dei suddetti errori condannati. Anzi, vogliamo piuttosto in virtù della santa obbedienza, prescriviamo a tutti che chiunque possiederà uno degli iscritti o volumetti condannati, nello spazio di otto giorni da contarsi dalla notifica di questa nostra Costituzione, si ritenga obbligato a distruggerli e a bruciarli totalmente, completamente e in ogni loro parte. In caso contrario, sentenziamo che siano scomunicati immediatamente per poi procedere contro quanti disprezzano la presente e ad altre pene più gravi, quando se ne abbia la prova. Dato ad Avignone, melle 326. Scusate, questo è l'ordine di persecuzione e mandato da Giovanni XX. Questo ordine è perpetuo. Cosa vuol dire? Vuol dire che è dogma della Chiesa, è il Papa che ha parlato in cattedra come se fosse Dio. Cioè in pratica è Dio che ha parlato, cioè è Dio che ha parlato attraverso il Papa di massacrare tutti coloro che non possono difendersi. Adesso arriviamo al commento del fariseo e la peccatrice in Luca e la bolla superilius specula di Giovanni XXII. Vi ricordo che quando un Papa parla in cattedra, ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito di leggere, quando un Papa parla in cattedra necessariamente parla di dottrina. Cioè quella dottrina non può più essere rimossa. Pertanto quel demandato, quell'ordine dato da questa bolla superilius specula è valido tuttora. Cioè tuttora Voitila può applicare questa bolla perché fa parte delle cose sacre della Chiesa. Questa bolla non è mai stata rimossa e questo Giovanni XXII non è mai stato condannato per infamia dalla Chiesa. Per cui questa legge, questo dogma è ancora in corso. Commentiamo dunque il fariseo e la peccatrice in Luca e la bolla superilius specula di Giovanni XXII. Chi è Giovanni XXII? È uno di coloro che, dopo le persecuzioni degli ebrei e dei lebrosi in Francia, accusandoli di ordire complotti in collaborazione con i musulmani di Spagna, al solo fine di depredarne gli averi, ordina la persecuzione di quanto non sia soggetta a criticamente alla Chiesa cattolica preferendo ricercare la libertà degli esseri umani. Giovanni XXII è colui che ordina la persecuzione di presunte streghe e di presunti stregoni. Le persecuzioni non toccheranno né streghe né stregoni. In compenso devasteranno milioni di piccoli uomini e donne, la cui unica colpa è la ricerca di libertà in relazione con il loro circostante. Distruggeranno perle preziose, che per l'espressione dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, del loro trasporto per il circostante, rappresentavano il motore del divenire dei sistemi sociali in cui vivevano. Distruggendo loro, nel modo più infame ed abietto conosciuto dai cristiani, hanno tentato di bloccare il divenire dei sistemi sociali, aumentando nell'asservimento e la coercizione. Giovanni XXII incarna la responsabilità di ogni singolo cristiano nella mattanza. Egli poteva agire così perché studiosi intellettuali coprirono la sua malvagità. Studiosi intellettuali cristiani a quei tempi non c'erano centri di studi ufficiali che non fossero cristiani, il cui scopo era quello di impedire, all'interno dei centri studi, formulazioni dottrinali che non fossero perfettamente ortodosse. Gli studiosi hanno la stessa responsabilità dei cristiani, al di là del fatto che fossero anch'essi cristiani, in quanto il loro approccio non era quello di studiare, ma di preparare un piano di disarticolazione del divenire umano. Dovevano preparare non solo gli strumenti con cui attaccare il bisogno di libertà, ma prontare le truffe giuridiche attraverso le quali intervenire sul bisogno di libertà. Parlerò di Jacopo Passavanti a proposito dello studioso come braccio armato di Giovanni XXII. Parliamo anche dell'oggetto della persecuzione. La persecuzione del circostante avviene spesso come ricerca del potere, quel potere che il sistema sociale nega agli individui che sentono bruciare dentro di loro il fuoco di vesta. Il circostante promette potere, ma chi percepisse questo non conosce nessun riferimento per comprenderne il significato. Il termine potere viene confuso con quanto il comando sociale propina loro. Il termine potere viene interpretato come poter fare, poter comandare, poter disporre, esattamente come il comando sociale agisce nei loro confronti. Il fuoco di vesta senza autodisciplina si trasforma in vulcano. Senza disciplina scatena la furia in tutta la sua forza distruttiva. Così, anziché estendere le ali della percezione ampliando la relazione col circostante, ci si scatena nel quotidiano della ragione quel senso di potenza che il fuoco di vulcano ispira. La sensazione di potenza non è riferita al quotidiano della ragione, ma alla capacità di superare il corso dei mutamenti. Il senso di potenza deriva dalla certezza dell'individuo di superare la morte del corpo fisico, continuando il cammino per diventare eterno. Questo l'individuo non lo sa. Il suo condizionamento educazionale lo costringe a pensare all'onnipotenza nella vita di tutti i giorni. Così il potere di avere ha buon gioco a distruggere chi ricerca la libertà. Così, chi ricerca la libertà, anziché costruire una solida base da cui spiccare il balzo nell'infinito dei mutamenti, aumentando il livello di libertà del sistema sociale in cui vive, brucia la propria possibilità in uno scontro in pari col potere di avere. Quando la terra è arida, Conso racchiude i semi dentro di sé ed attende l'arrivo della pioggia. Non fu solo questo, naturalmente. Centinaia di migliaia di donne e uomini vennero torturati ed ammazzati soltanto per il gusto di torturarli ed ammazzarli, il gusto di Gesù di metterli in ginocchio costringendoli a strisciare e supplicare. Dal giornale La Repubblica del 30 agosto 1994, leggiamo la cronaca della tortura del fuoco, tratto dall'opera dell'inquisitore domenicano Eliseo Masini, Sacro Arsenale, ovvero pratica dell'ufficio della Santa Inquisizione pubblicato a Genova nel 1621 e in edizione definitiva nel 1625. Il testo è stato ripubblicato nel 1990 da Xena Editrice, dal titolo Il Manuale degli Inquisitori. Poiché il Costituto non poteva essere sottoposto al tormento della fune per il fatto che chiaramente era privo di un braccio o aveva un braccio rotto, eccetera, decretarono che fosse sottoposto al tormento del fuoco, facendo istanza in tal senso, e pertanto ordinarono che lì il Costituto fosse condotto al luogo dei tormenti e sottoposto alla tortura del fuoco e da esso tormentato. Condotto dunque alla tortura del fuoco, più volte fu munito dei signori con benignità di dire liberamente la verità, cioè loro bruciano e lui deve dire liberamente la verità, senza aspettare di essere afflitto da quel tormento già detto. Allora i signori, vedendo che quello non voleva dire la verità, cioè quello che loro volevano in pratica, ordinarono che fosse sottoposto al tormento del fuoco. Allora, sottoposto al tormento, egli con i piedi nudi, spalmati col lardo di maiale e tenute fermi in ceppi vicino ad un bel fuocherello ardente, dice letteralmente bel fuocherello ardente, dopo esserci stato per uno spazio di tempo, all'inizio restò zitto sotto quella tortura, poi cominciò ad urlare ad alta voce, oimè, e vedendo che sentiva un gran male, i signori ordinarono che fosse messa una tavola davanti ai piedi del costituto. La tavola fu messa e il costituto fu interrogato dai signori. La tavola fu tolta, il costituto allora cominciò a gridare a gran voce. Allora i signori ordinarono che fosse di nuovo messa la tavola davanti ai piedi. Questo trattamento è quello che Gesù avrebbe voluto riservare al fariseo, reo di non avergli dato il bacio di benvenuto o di sottomissione, di non avergli lavato i piedi, perché secondo Gesù il fariseo doveva amarlo con tutto il suo corpo, con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima. Il fariseo doveva essere come quel creditore che avendo molti debiti ringrazia per averli rimessi. Il fariseo non deve non avere debiti, non deve essere prudente nella propria esistenza, per guardare dritto il proprio divenire. Deve contrarre molti debiti affinché Dio possa agire a suo piacere nei suoi confronti, colpevolizzandolo. Questo spirito è lo spirito cristiano nella caccia dell'inquisizione e nella preparazione della bolla di Giovanni XXII. Costringere gli altri ad assumersi colpe che non hanno, per poterli condannare e costringere a strisciare davanti al suo Dio. Giovanni XXII, gli inquisitori, passavanti, Gesù, sono condotti dallo stesso spirito, umiliare il genere umano per soddisfare i propri miserabili appetiti. Giovanni XXII ordina di uccidere, massacrare, torturare, distruggere la conoscenza che non sia la sottomissione e nello stesso tempo ordina quanto preferisce la confisca dei beni a chi ritiene eretici. A lui interessa relativamente perseguire chi adora il diavolo. Interessa confiscare i beni e incamerarli. Quanti sono i beni che la Chiesa Cattolica ha accumulato, dividendosi fra le varie strutture interne con questo giochetto, direttamente o indirettamente? L'importante è rubare il pane dalle mani di chi non si può difendere. Nella prima parte della bolla, Giovanni XXII afferma di essere il padrone e il dittatore dell'esistente, in quanto è stato posto all'altezza di Dio creatore dell'universo. Peccato che la sua esistenza sia solo una fantasia. Che secondo lui avrebbe fatto una serie di cose, dimenticando come quelle cose siano frutto della volontà umana, del bisogno umano. Perché Giovanni XXII è crudele? Perché è stato posto allo stesso livello del macellaio di Sodome Gomorra, il quale, secondo Giovanni XXII, formò il primo essere del genere umano, Balle, che fu messo a capo delle cose terrene e adornato delle virtù divine. Se mai è il contrario, Dio viene dipinto con virtù umane, che lo avrebbero chiamato quando l'uomo era esole, ma non era sulla terra, dandogli le sue leggi, sottomettendole ai suoi voleri. Lo liberò quando era prigioniero di uomini o della sua sottomissione imposta. Se era prigioniero di uomini, non era prigioniero di chi Dio ha creato, dunque era prigioniero di se stesso. O si sostiene, forse, che Dio ha liberato dalla sua stessa coercizione? Lo riscattò con la sua passione. Avrebbero potuto benissimo, come creatore, farsi i fatti suoi, affinché gli uomini si sottomettessero al cristianesimo in ogni aspetto della loro esistenza e del loro intimo. Ecco il motivo per cui Giovanni XXII vuole perseguire il genere umano. Egli si ritiene giuridicamente il padrone del genere umano e questo deve essere felice nel prostrarsi e nell'essere perseguitato qualora un barlume di ragione raggiunga il suo cuore. Questa è la logica di Gesù. Scusate. Di cosa si rammarica Giovanni XXII? Che troppi sono i cristiani solo di nome. Si rammarica che il terrore cristiano non abbia avvolto tutti gli esseri umani. Questo è il secondo motivo per cui decide che gli esseri umani devono essere torturati. Non si sottomettono con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo e con tutta la loro anima. Fingono. Fingono per sopravvivere, nascondendosi alle pene che il terrore cattolico vuole infliggere loro. Scovateli, dice Giovanni XXII. Scovateli, torturateli, depredateli e uccideteli. Seguendo la parola e gli insegnamenti di Gesù, che non si comportino come il fariseo, che si limitò a dimilitare a pranzo Gesù senza sottomettersi a lui, senza dargli il bacio e senza lavargli i piedi. La feroce di Giovanni XXII è pari a quella di Gesù. Poi se volete è la stessa feroce di Giovanni XXIII, ma questo lo aggiungo io. Perché Giovanni XXII ha paura che gli esseri umani pensino e facciano del loro corpo e della loro anima quanto desiderano? Non ci sarà il suo Dio a punirli. Giovanni XXII mentiva nei confronti del suo Dio. Sapeva benissimo che il suo Dio era solo un'invenzione usata per mettere in ginocchio gli esseri umani, per potergli rubare il pane dalle mani. Sa benissimo che senza terrore gli esseri umani cercano la via del loro divenire, ovunque questa si presenti e nella forma in cui si presenta. Giovanni XXII sa di essere bugiardo e sa come le bugie. Per essere credute è necessario che siano accompagnate dal terrore affinché nessuno osi verificarle. Condannare qualunque cosa, condannare qualunque azione che possa costruire un dubbio nella sottomissione a critica alla fede cattolica. Distruggere ogni immagine sospetta, sequestrare specchi ed anelli, tutto pur di derubare chi non ha nulla, derubare i più deboli che osano chiedere al circostante aiuto per risolvere i problemi che la chiesa cristiana costruisce al fine di seminare miseria. Come, dice Giovanni XXII, voi non siete contenti di prostrarvi e di servirmi? Come, dice Giovanni XXII, voi non siete contenti di lavarmi i piedi, di farvi derubare per la mia ricchezza? Io, che sono l'immagine di Dio in terra, come osate chiedere aiuto al diavolo, mio cerrimo nemico? Come osate a farvi aiutare al demonio per chiedere una speranza di libertà? Quale dolore? Dice Giovanni XXII, piuttosto che servirmi vogliono essere liberi. Queste sono le condizioni per cui il creditore rimette i debiti. Non giochiamo ai bussolotti, i creditori sono gli uomini, la chiesa cristiana è in grande debito nei loro confronti. Non giochiamo ai bussolotti, il debitore è Gesù nei confronti del fariseo. Ed è debitore due volte, prima per essersi seduto alla sua tavola e poi per averlo insultato. Ma i truffatori non pagano i loro debiti, terrorizzano per non pagare. Quale dolore per la Chiesa Cattolica? Anziché sottomettersi, gli esseri umani cercano la libertà e questa ricerca si allarga, contagia altri esseri umani. Non è una ricerca più grande del solito, ma sta terrorizzando Giovanni XXII, vede il suo greggio è sempre più gravemente contagiato dal desiderio di libertà. Distruggere la libertà. Giovanni XXII ritiene un dovere distruggere la libertà. Distruggere coloro che cercano la via verso l'eternità, scendendo dall'altare su quali preti cattolici vogliono sacrificarli al loro Dio, impedendo loro di diventare eterni. Ricondurre le persone che cercano libertà alla sottomissione e all'obbedienza, affinché accettino di buon grado di rinunciare al proprio divenire, per sacrificare la propria energia vitale in favore del suo Dio e, contemporaneamente, distruggere chiunque non è riconducibile all'obbedienza. Con questo decreto, che gli impone come valido in eterno, ammonisce il proprio bestiame in virtù dell'obbedienza che gli devono e sotto la minaccia di scomunica. Se non fanno quanto gli chiede, li avrebbe torturati e uccisi. Cercare la libertà è un'azione perversa e, pertanto, i ricercatori devono essere colpiti con le debite pene, specialmente la confisca dei beni, come meritano gli eretici. Inoltre, che nessuno osi studiare, potrebbe facilitargli la via attraverso la quale cogliere dall'albero della vita eterna. Bruciati libri, invoca Giovanni XXII, bruciati libri affinché nessuno possa studiare e sviluppare la sua relazione col circostante. Bruciati libri, dice Giovanni XXII, affinché nessuno pensi di sottrarsi alla sottomissione al nostro Dio, affinché nessuno, chiedendosi il perché delle cose, possa scoprire le nostre menzogne e sottrarsi al nostro potere. Bruciati libri, dice Giovanni XXII, affinché nessuno riesca a capire che non è lui debitore della Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica è debitrice in suoi confronti e nei confronti dei padri e dei suoi padri è debitrice dei figli e dei suoi figli. Bruciati libri, dice Giovanni XXII, affinché nessuno chiami la Chiesa Cattolica a dover pagare il proprio debito nei confronti degli esseri umani, né ora né mai. Nella sua opera il macellaio Giovanni XXII fu attorniato da tutta una serie di servi che lo aiutarono a macellare i più deboli pur di conservare i loro privilegi. Primo fra tutti fu Jacopo Passavanti. Passavanti scrive Lo specchio della vera penitenza, un testo il cui scopo era estillare terrore attraverso lo scorrere del tempo e del pensiero rivolto alle pene infernali. Il suo scopo era quello di superare il canon episcopi da un lato e dall'altro rendere più feroce la caccia a chi cerca la libertà in relazione col circostante. Dal canon episcopi alla bolla di Giovanni XXII erano passati quasi 500 anni. Di mezzo c'erano state le crociate, la strage dei pezzenti, dei bambini e dei pastorelli. La percezione del circostante era cambiata. Il condizionamento educazionale era giunto quasi a cancellare il ricordo delle cavalcate di Diana. Il problema per i cristiani era che al di là della forma il circostante si percepisce sempre come momento di libertà e a quel circostante si dà la forma imposta al momento. Fino ad ieri la gente si relazionava cavalcando con Diana. Ora che il ricordo è andato cancellandosi cavalcano col diavolo. Non c'è differenza. È lo stesso circostante che avvolge l'individuo portandolo a libertà. Cambia soltanto la forma che il circostante assume per condurre l'individuo. Cambiano soltanto i referenti nel mondo della ragione attraverso il quale l'individuo descrive il circostante. Per passavanti la scienza diabolica è cercare di comprendere il futuro. Cercare il potere e la ricchezza che il comando sociale nega a quelle persone. Per passavanti la scienza diabolica è fare quanto la Chiesa proibisce di fare per cercare la libertà dalla miseria che la Chiesa impone. Devono essere puniti per passavanti ogni azione o sequenza di azioni il cui scopo è quello di portare a termine l'arte magica e con essi gli intenti degli individui. Non tutti sanno usare l'arte magica. Si legge nella stregoneria di aurie streghe, inquisitori del 300 al 700 di Abbiati, Agnoletti e Lazzari, edizione Mondadori. Passavanti riconosce che ben pochi sono quelli che sappiano adoperare quest'arte. La gente comune, di bassa condizione, scrive con atteggiamento di ma il celato disprezzo, usa certi incantesimi, scongiuri, iscritture, brievi e legature, con certe osservanze che pare che l'abbiano somiglianza con quelle dell'arte magica e che hanno a fare nulla ad essa. Ma siccome le persone che compiono tali pratiche inutili credono realmente nella loro efficacia e nell'aiuto del diavolo, e per questo se lo fatto e se peccano mortalmente, la posizione del nostro frate è assai importante, perché sarà tipica dei demonologi più intransigenti, Visconte, Bernardo da Como e Priérias ad esempio. Anche se i seguaci del diavolo non compiono in effetti quanto dicono di compiere, non fa difficoltà alcuna, poiché godere dentro di sé per una falsa colpa è, insegna Agostino nel De Civitas Dei, già di per sé stesso una colpa. Soprattutto emerge il disprezzo per la gente, emerge il disprezzo perché è costretto a strisciare e viene umiliato a maggior gloria della Chiesa. Questo disprezzo è la vera base della persecuzione, appropriarsi degli averi, costringere ad umiliare e a provare disprezzo per gli umiliati, quando tentano di alzare la testa per strisciare verso l'infinito. I poveri non sono nobili, i loro sentimenti sono assoluti, come la miseria nella quale i cristiani li cacciano. Non usano la dialettica e la retorica, né i giri di parole quando desiderano che il prelato, boia di turno, si levi dalle scatole. Cosa vogliono questi pezzenti? Si chiede e passa avanti. Come ogni prelato che, elargendo la propria carità per alimentare la miseria che egli ha costruito, mostra tutto il suo arrogante disprezzo. I miserabili percepiscono il circostante e in quel circostante devono mettere ordine. Il circostante trasmette loro una sensazione di potere, ma essi non sono in grado di disciplinarlo, di metterlo in ordine, di inserirlo nella descrizione del quotidiano della ragione. Il circostante spesso li avvolge fagocitandoli. Non hanno punti di riferimento, non hanno protezione e quelle poche vengono distrutte e bruciate, anche per ordine Giovanni XXII. Bruciate i libri, ordina. I poveri si muovono nel caos di forse e passa avanti a buon gioco nel disprezzarli, ma sporco e miserabile e passa avanti, non i piccoli uomini che danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Bruciateli pure, dice passavanti, peccano contro Dio. Nel loro cuore godono nel relazionarsi col demonio. Nel loro cuore peccano contro Dio, ammazzateli. I miserabili devono essere ridotti come la peccatrice, impotenti davanti al torturatore, pronti ad accogliere la tortura che finalmente li redimerà, portandoli a morire al cospetto di Dio. Giovanni XXII, altro non fa che seguire i precetti di Gesù e passa avanti e li traduce in termini pratici. Uccideteli. Comunque, tanto hanno peccato in ogni caso. I piccoli uomini arrancano all'interno di forse. Sono condotti dall'immagine apprese nel quotidiano della ragione. È molto duro superarle. Occorre molto tempo. Spesso i miserabili non sanno mascherarsi bene. Sono generosi rispetto agli altri esseri umani e questa generosità li scopre consegnandogli ai carnefici. Altri sono deboli e i cristiani imputano a loro la miseria e le malattie che attraverso il loro fare sviluppano nei sistemi sociali. Forse chiama gli esseri umani, li induce ad entrare nello sconosciuto, sfrutta ogni centimetro della barriera del GH, sfrutta ogni alterazione della percezione, esattamente come il Dio dei cristiani e gli spiriti neri sfruttano le stesse brecce e condizioni favorevoli per mettere in ginocchio gli esseri umani. Lo sconosciuto circonda la descrizione della ragione, la maglia portandola ad estendersi nello sconosciuto facendolo partecipe alla descrizione della ragione. Si può distruggere l'essere umano che diventa immanenza, ma non si può distruggere l'immanenza. D'altronde l'immanenza sovrasta l'essere umano, ma è trascendente rispetto alla sua ragione. Per questo motivo nessun cristiano potrà mai percepire l'immanenza, per lui è solo trascendenza, e tanto più sarà grande il suo assoggettamento e tanto più trascendente per lui sarà l'immanente. Intanto il sangue di chi cerca libertà scorerà a fiumi ed opere dei cristiani. Vedremo in seguito come altre bolle papali accentueranno questo aspetto e come altri macellai saranno pronti ad affiancarli pur di conservare i loro privilegi sociali. bene, vi ho letto il fariseo e la peccatrice, scusate un attimo. Vi ho letto il fariseo e la peccatrice di Luca e abbiamo messo assieme alla Bola Ilius Pegula di Giovanni XXII. L'abbiamo messo insieme proprio per dimostrare come il gioco dei bussolotti che fanno i cristiani attraverso il gioco dell'interpretazione che vendono come propaganda in realtà è solo fatto per distruggere gli esseri umani, è solo pura propaganda sporca, squallida e bugiarda. E' come invece all'interno delle scuole teologiche il discorso è completamente diverso, come l'applicazione nella realtà è completamente diversa. Il fine dei cristiani è quello di distruggere gli esseri umani. Io ho finito la lettura, se qualcuno vuole telefonare prenderò le telefonate, ricordo il telefono di Radio Gamma è 049 700 700. Ripeto ancora. Pronto? Pronto Claudio? Ciao, dimmi. Sono io un'altra volta. Senti Claudio, volevo chiederti come si rapporta il... Cosa? Abba sulla radio? Sì, forse è meglio, sai. Allora. Dimmi. Eh, la tengo... sì, perché ti sento attraverso la radio, aspetta che mi avvicino. Sì. Allora, mi senti? Sì, sì, ti sento benissimo io. Ecco. Allora, come si rapporta il paganesimo con la morte del corpo fisico? Io mi rendo conto, già mi rendo conto che la morte, come dite voi, è senz'altro un atto, un atto magico come la nascita, eccetera. Esatto. Ecco, e volevo chiederti se alla morte di una persona a cui si è voluto bene, se i congiunti possano in qualche modo o in qualsiasi forma avvicinarsi o sentirne la presenza, anche per trasmettere un affetto che non si è saputo dimostrare prima, quando... cioè vorrei... Ho capito il concetto. Sì. E ti rispondo subito. Sì. Ora, ecco, io volevo dire... siccome... alla fine di gennaio purtroppo io sono stata colpita da... da un fatto luttuoso e comprendo che in questi momenti si cerchi... in qualsiasi modo una... un po' di... di conforto, un pensare dove sono, dove si trovano. Ecco, io adesso metto giù... D'accordo. E ti ascolto. D'accordo. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, davanti al dolore umano c'è sempre... c'è sempre un po' di difficoltà. Il problema è questo. Se un individuo ha vissuto la propria vita normalmente, cioè senza mettersi in ginocchio, affrontando i propri problemi, adattandosi al sistema sociale, facendo le sue battaglie di libertà, la sua vita, arrabbiandosi, magari anche porconando, cercando di star bene, comunque ha abbastanza forza per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Non è necessario praticare stragoneria o praticare paganesimo. Rispondo alla telefonata, poi vado avanti con la risposta. Pronto? Pronto? C'è l'unico? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere una cosa, no? Tu adesso hai fatto un elenco, diciamo, delle, diciamo pure malefatte che hanno fatto i cristiani nei confronti di tutti quanti, no? Volevo chiederti una cosa. Secondo te cosa spingeva i primi cristiani a farsi ammazzare, diciamo, nel Colosseo, a rendersi martiri? C'è un po' una contraddizione. Sì, non paghavano le tasse. Eh, pronto? Sotto Diocleziano non paghavano le tasse. Cioè, era quella la causa? Sì, sì, la causa principale era quella. Sotto Diocleziano c'era il riordinamento dello Stato. La religione c'entra pochissimo. Se l'è dicesso, si rifiutavano di partecipare alla vita pubblica. Questa è la causa. Cioè, cercavano di impossessarsi. Non c'erano altre cause? No, no, non ci sono nessuna causa religiosa. Questa è la sua propaganda. Durante le persecuzioni di Nerone, quelle che avevano passate le persecuzioni di Nerone, più che i cristiani venivano persecutati i mitriani. E questo faceva parte di tutta una serie di persecuzioni precedentemente, per esempio con i dionisiaci, i baccanti, che servivano per difendere l'integrità dello Stato. Infatti tutti quelli che lo mettevano in discussione, l'integrità dello Stato, potevano praticare il loro culto. Anzi, a Roma venivano parte i templi a Uffa. Ma non poteva essere una forma anche di fanatismo religioso? No, no. Forse quelli che si facevano ammazzare erano fanatici. Cioè, volevano proprio quello, imporre quello. Ma non chi li ammazzava. Anche perché ti dirò che a Roma i templi si sprecavano. Cioè, qualunque religione aveva nazionalità, poteva prendere il suo tempio. L'unica cosa era rispettare lo Stato. Basta. Ma è sempre stata fatta una versione diversa in pratica da quello, cioè, a me mi giunge un po' a questo. Guarda che la quantità di templi che arriva a Roma, prendi pure l'impero, a me non sta bene l'impero romano, però tu prendi l'epoca imperiale, tu vedi che arriva, non so, la Dea Siria, arriva Iside, arriva dall'Oriente, arrivano centinaia di culti. E tutti quei culti che si adeguano allo Stato, cioè che seguono il loro culto, però proteggono lo Stato Romano, vengono tutti ammessi. Non vengono ammessi quei culti che fanno setta, cioè che tendono a separarsi dal corpo sociale. Ho capito. Non lo sapete, cioè, non so, mi sembra strano come… Comunque, Dio Cleziano, tieni presente che le maggiori persecuzioni contro i cristiani, no? Sono state fatte da Dio Cleziano, d'accordo? Sì, sì. Dio Cleziano è l'unico imperatore romano, credo che sia l'unico, che ha fatto l'imperatore per vent'anni e poi si è ritirato in clausura in villa e ha mollato l'impero. Cioè l'unico imperatore che ha ristrutturato lo Stato e che ha lasciato lo Stato ristrutturato e si è ritirato in pensione senza voler potere. Proviamo a controllare questo e dovrai se non è vero. Va bene, grazie. Prego. Pronto? Allora, ritorniamo alla risposta dell'amica che ha chiesto prima. Allora, vivendo la propria vita, prendendosi le mani delle proprie responsabilità, datando se il sistema sociale comunque sia forza sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La forza non c'è più quando si sia messi in ginocchio, quando si è rifiutati di affrontare la vita. Per cui tu puoi già vedere questa persona, come ha vissuto e da come ha vissuto questa persona puoi già farti un'idea se può avercela fatta o non può avercela fatta. L'altro discorso che facevi tu, quello di poter aiutare la persona che sta male, che sta morendo a varcare la soglia, io ti dirò che questo viene fatto normalmente. Quando tu hai il moribondo, cioè la persona che sta per morire e i parenti si mettono a tolto al moribondo, stanno attorno al moribondo, in realtà cedono parte della propria energia proprio per aiutare in questo passaggio. Se si tenessero per mano, se bloccassero il silenzio interno sarebbe ancora meglio. Però il fatto stesso di starli attorno già permettono al moribondo di usare la loro energia, parte della loro energia per spiccare il balzo. Per cui l'affetto di chi sta attorno aiuta moltissimo a spiccare il balzo. Poi un altro discorso ancora, io vi parlo del crogiolo dello stregone, vi parlo come forzare l'energia e come guardare il mondo, cioè come girare lo sguardo per guardare il mondo. chiaramente se fate quello che vi indico io e lo adattate a voi stessi, cioè il vostro modo di vivere, il vostro modo di pensare, il vostro modo di essere, voi spostate lo sguardo dalla sottomissione a guardare negli occhi il mondo. Per cui in quel momento che fate questo voi svegliate il dormiente che sta dentro di voi. Dopodiché quello che io vi dico non è una verità, cioè non è che voi dovete prendere quello che dico io e applicarlo meccanicamente, dovete applicarlo per quello che vi va bene, per quello che è le vostre caratteristiche, il vostro modo di vivere. Però l'importante, l'essenza di tutto questo è non essere in ginocchio, non rinunciare alla propria vita, non sottomettersi. Ogni volta che ci si sottomette si perde qualcosa. Chi ha vissuto normalmente è comunque in grado di superare la soglia, la morte del corpo fisico. Questo qualunque religione, qualunque pensiero, qualunque credo, qualunque fede? Io ho visto dei grandi bestemmiatori e degli atei e ho visti passare la soglia della morte del corpo fisico. Loro avevano combattuto una vita, avevano bestemmiato per una vita, per una vita avevano serrato i pugni e io li ho visti passare. Ho visto passare anche degli apprendisti stregoni, però un'altra cosa. Quello che ho visto proprio dissolversi invece sono persone che sono andate in chiesa, persone che hanno vissuto pregando. E queste sono visioni che io ho avuto che non posso riproporre, cioè non posso dire a voi che mi state ascoltando credete in quello che vi dico. Io vi dico, quello che vi dico è una cosa che appartiene a me, è una cosa che appartiene al mio sentire, è una cosa che appartiene al mio percepire. Voi non dovete assolutamente pensare che io dal momento che ho visto queste cose sia una persona particolare o abbia delle cose particolari. Voi dovete pensare, quello che ci dice sto idiota può servirmi a me, se quello che dice sto idiota a me mi può servire, io uso le cose che mi servono che dice questo idiota. Dopodiché quello che ho visto serve a me, cioè a me serve perché mi dà la certezza nella ricerca, cioè la ricerca filosofica, la ricerca del modo di trasmettere le cose, del modo di trasmettere le idee, io la tiro fuori da me stesso. Se io mi trasformo, se io riesco ad ampliare la mia percezione, le mie idee avranno uno spessore e un livello diverso che se ho una percezione bassa. Cercherò di spiegarmi. Noi come pagani stiamo lavorando per elaborare il concetto della filosofia aperta. Che cos'è la filosofia aperta? La filosofia aperta dice, in sostanza proprio in soldoni, che il centro del pensiero non è il pensiero ma è l'essere umano, sono le trasformazioni dell'individuo. Il pensiero può essere modificato soltanto se l'individuo si modifica. Dunque non serve avere le idee precise, le idee belle, le idee che nessuno mai supererà, perché queste non esistono. Esistono soltanto gli individui che si modificano. Modificando la propria percezione si fanno affluire nuovi fenomeni e si dà una lettura diversa delle realtà che ci permette di affrontarle in maniera migliore. Per cui quello che io vi dico, quello che dico a questi microfoni, sono cose che ho tirato fuori da me, cioè che ho tirato fuori dal mio cammino. Per cui voi non dovete prendere quello che dico io e dicendo, ah Claudio dice questo, allora questo è vero, oppure ah Claudio ha detto questo, questo è faesso. Quello che vi dice Claudio, quello che ha fatto Claudio, sono cose che appartengono a Claudio. Voi seguite il crogiolo dello stregone, farete altre cose probabilmente, forse anche le stesse, però è difficile avere un passato come l'ho avuto io, affrontare la vita come l'ho affrontata io. Per cui è facile che le cose siano diverse e uguali nello stesso tempo, cioè il tipo di visione siano diverse. Comunque ricordatevi sempre che chiunque ha vissuto in maniera normale e si è assunto la responsabilità della propria esistenza. Al di là della fe, al di là del credo, al di là del pensiero, ha energia sufficiente per prendersi nelle proprie mani il proprio divenire. La religione cattolica, le religioni rivelate, hanno lo scopo di distruggere questo divenire. Però noi siamo in una società civile dove ormai chiunque si fa la propria immagine del Gesù, la propria immagine di Dio, cioè nel senso che ognuno si fa il Dio che è il Volcap, cioè siamo riusciti a far passare questo modo di pensare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se uno dice Dio non esiste, io mi afferro la vita come io voglio, si fa un'immagine trasversale di Dio, cioè un'immagine che gli va bene a lui e elimina praticamente l'immagine della sottomissione ed è come se Dio non esistesse. Per cui esistono tutti questi passaggi in questo momento che sono molto utili per affrontare la vita. Percepire il circostante come pagano, le divinità pagane, le tensioni pagane che ci circondano, percepire questo aiuta molto di più, cioè permette di fare dei balzi notevoli in avanti. Però ogni sistema sociale ha dei tempi di trasformazione che sono abbastanza lenti. Comunque, la morte del corpo fisico puoi valutare anche ad occhio se la persona ce l'ha fatta o non ce l'ha fatta, se è andata via serena o se è andata via disperata, se ha desiderio e rimpianti lasciati qua, o se invece desiderava fare il passaggio. Questo si può vedere, si può valutare abbastanza meccanicamente. Bene, sono arrivati i ragazzi, io adesso finché aspettiamo i ragazzi metterò su un po' di pubblicità. Vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo, che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo via delle Vignole 4 Marghera, vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è Casella Postale 53 Marostica a Vicenza. Un messaggio tutto particolare per l'amico Franco di Jesolo, io ho dato il tuo indirizzo finché ti spediscano il bollettino e vedranno se c'è possibile fare una forma di abbonamento o qualcosa, comunque ti arriverà. Tutti gli altri che mi hanno richiesto bollettini e materiali, li ho tutti dirottati all'Istituto e scrivendo all'Istituto potete avere tutti i materiali che vi servono. Se volete parlare con me, l'indirizzo lo avete, potete trovarmi quando volete. Ultimissima cosa, noi stiamo tentando di organizzare un altro paio di conferenze, una di queste conferenze mi è stata proposta di farla in tarda primavera, inizio dell'estate qui in radio, vedremo se questo è possibile, vediamo se non disturbiamo eccessivamente, se tutta una serie di cose. E un'altra conferenza invece in aprile, pensiamo di poterla fare e sfidare uno dei nostri peggiori nemici. Questo comunque ve lo dirò la prossima volta quando le cose saranno un po' più precise. Bene, a risentirci a giovedì prossimo, con trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Grazie per aver ascoltato, grazie per essere stato il microfono di questa radio. Ricordatevi sempre che questa radio permette a tutte le persone, a tutti quelli che hanno dei pensieri, qualcosa da dire, di esprimerli e non mette limiti alle cose di nessuno. Per cui questa è una radio preziosa, sostenetela, partecipate ai pranzi se potete, fate quello che volete, però ricordatevi che questa radio è un bene prezioso. Arrivederci e a risentirci.